In effetti siamo contenti di questo risultato, però ci fa gioire a metà, perché poi il pensiero va alla prossima partita e noi abbiamo fatto il 50%, l'altro 50% è ancora da fare, il mio pensiero va soprattutto a Terni. Ne approfitto perché io volevo fare due ringraziamenti stasera, uno soprattutto ai giocatori, perché stasera tanti giocatori sono entrati incerottati, hanno giocato in condizioni un po' precarie, neanche la panchina sinceramente, ho giocatori in ottime condizioni. E l'altro ringraziamento al pubblico, io prima l'ho detto, non ho fatto una battuta, io stasera mi sono sentito un allenatore da Serie A, grazie al pubblico di Avellino, lo ringrazio perché soprattutto nei momenti difficili, nei momenti importanti ha saputo darci una carica, ieri parlavamo in conferenza stampa di energia, io credo che sia successo proprio questo, il pubblico ci ha trascinato e ci ha dato una mano a vincere questa partita. Dico che a volte magari si fanno, qui a Avellino ma un po' in tutti i posti, a volte magari si fanno tanti proclami che servono a poco, se tu poi non sei un esempio, e l'esempio lo devo fare qui con i fatti, ecco, la mia presa di posizione è questo, perché io l'ho detto anche qualche minuto fa, io qui a Avellino mi sto trovando da Dio, cioè nel senso mi sto trovando molto bene, sono in armonia con il presidente, con il direttore, con la gente fuori, sto bene a Avellino, però voglio raggiungere questo obiettivo che per me è viscerale, ma non perché devo creare chissà cosa, la sento perché è una cosa che mi ha coinvolto emotivamente e quindi voglio portarlo e a volte magari sento vicino a me magari tanti discorsi così, però dopo guardo sempre una persona, quando parla, quando una persona è da esempio. la mia era una provocazione per riuscire a trascinare un po' tutto l'ambiente, quello più vicino a me. No, io il primo giorno che ho incontrato Castaldo gli ho detto questo, tu sei sempre stato un giocatore che mi ha dato fastidio, io veramente sei stato un giocatore fastidioso d'avversario dal primo al novantesimo, perché? Perché ha tenacia, ha tecnica, ha tattica, ha forza, ha intelligenza, ha rabbia, sono sempre i giocatori che poi apprezzo questi giocatori, perché sono dei trascinatori, sono degli esempi. Quindi Castaldo lo conoscevo bene, anche se non avevo avuto un rapporto umano e quindi mi aspettavo che fosse un trascinatore, però direi che anche Ardemagni stasera è stato molto molto importante perché ha dato peso ed è entrato con lo spirito giusto lì davanti, quindi sono contento anche per lui stasera.